Le rivelazioni contenute nella documentazione desecretata dal Consiglio dei Ministri non poteva che creare allarme e sconcerto tra la popolazione, di Serra San Bruno in particolare, dove sarebbero stati interrati rifiuti tossici tra gli anni 80 e 90. Ma cos'altro c'è ancora da sapere? Quali altri segreti custodiscono le 9.000 pagine trascritte dal SISDE? Una domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore. Ieri la questione è stata affrontata dal prefetto che ha avviato una task force. Oggi interviene il Movimento 5 Stelle che definisce la Calabria peggio della terra dei fuochi. Dalle verifiche che saranno eseguite, dichiarano i parlamentari grillini Dalila Nesci e Paolo Parentela, potrebbero emergere scenari tragici. E poi c'è la rabbia del sindaco di Fabrizia, Antonio Minniti, che da tempo denuncia l'alta incidenza di tumori che si registrano in paese e chiede l'avvio di indagini approfondite per tutelare la salute pubblica. Non vogliamo destare allarmismo ma non vogliamo nemmeno sottovalutare il problema. poiché proprio nel territorio del Comprensorio delle Serre c'è un'alta incidenza di patologie tumorali e neoplastiche che ci consigliano a tenere destra l'attenzione e vigilare per scongiurare che ciò che i servizi dicono da vent'anni non abbia verificarsi, non si sia verificato e speriamo sia tutto destituito di fondamento. Ma le cose che ci sono scritte in quel rapporto sono tali da consigliarci di mettere in campo azioni tale da affrontare il problema in maniera seria e per avere soprattutto verità.